Le partite della Triestina su Telequattro. Si rinnova il sodalizio vincente fra la Serie C di calcio e la nostra emittente dopo il successo dell'anno scorso. Telequattro trasmetterà tutte le gare dell'Unione indifferita a partire dalla prima trasferta dell'anno contro la Clodiense in onda domenica 1 settembre alle ore 21 e tre dirette dei big match della stagione. Un cammino che si prospetta appassionante per la squadra affidata a Michele Santoni, partita alla grande con la vittoria all'esordio per 3-0 contro l'Arzignano. Un match in cui si sono già visti in bella mostra vecchi e nuovi talenti rossalabardati chiamati in primis dalla società presieduta da Ben Rosenweig a una stagione di successo grazie anche al ritrovato Stadio Rocco. Telequattro seguirà ogni passaggio, ogni momento di questo campionato con le gare che andranno in onda settimanalmente sulla nostra emittente e gli approfondimenti con ospiti in studio al Caffè dello Sport che riparte lunedì 9 settembre alle 21 e 10. Il canale 10 del Digitale Terrestre si conferma sempre più la casa della Triestina in TV, un altro regalo ai nostri fedeli telespettatori. Forza Unione!